Si chiama Urban Green ed è il progetto organizzato da Comune e tre club rotari della città per rilanciare i temi della sostenibilità ambientale. Nei giardini 8 marzo di Via De Ciccio presentata l'iniziativa che prevede la piantumazione di 200 alberi di alto fusto in vari luoghi di Salerno. Il progetto riguarda il posizionamento dei totemi, l'inclusione nell'ambito scolastico con istituti che già abbiamo individuato e con il regalo, cioè con la donazione al Comune di Salerno di centinaia di alberi che appena il Comune ci dirà dove posizionarli, di che tipo vogliono gli alberi, di che diametro debbono essere i fusti, noi saremo pronti come club a esaurire il progetto che ripeto si sviluppa in tre anni. Non solo, attenzione anche alla rigenerazione urbana con l'installazione di un mini bosco verticale con scarico e raccolta delle acque per sensibilizzare i salernitani sui temi ecologici. Ringrazio naturalmente i Rotari, i tre Rotari che hanno contribuito a questa installazione e come dico spesso i Rotari ci stanno viziando perché stanno facendo una serie di operazioni di tipo sociale molto dilevanti e molto gratite alla popolazione. Io ho visto professionisti estremamente impegnati in questo percorso, quindi significa che effettivamente ce l'hai proprio nel DNA. Al netto delle valutazioni di carattere tecnico è una cosa bellissima, proprio bella, proprio a vedersi. A margine dell'iniziativa, il sindaco di Salerno Enzo Napoli ha anche annunciato l'imminente avvio dei lavori di manutenzione e ristrutturazione per il parco del mercatello, polmone verde della città.